Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Inaspettate tragedie, l'incidente che ha sconvolto il mondo di uomini e donne. Prima di iniziare il video, ti chiedo gentilmente di premere il tasto iscriviti e lasciare un bel mi piace. Grazie. Nella nostra amata Italia, spesso ci troviamo ad affrontare tragedie che colpiscono senza preavviso, come delitti o incidenti stradali. Purtroppo, la morte è una delle cause più comuni di dolore non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo. Oggi, però, desidero darvi una notizia che sta generando grande preoccupazione tra i fan del popolare programma televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Nessuno si aspettava un evento del genere, secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, l'ex tronista della trasmissione, Diego Tavani, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Diego ha condiviso la sua terribile esperienza sui social media, suscitando apprensione tra i suoi sostenitori, che si preoccupano per le sue condizioni di salute. Conosciuto per un turbolento corteggiamento con Ida Platano, Diego, oggi 44enne, ha ormai lasciato il mondo dello spettacolo e si dedica ad altre attività. Tuttavia, come accennato, è stato coinvolto in un brutto incidente stradale che ha sconvolto la sua vita. Il racconto che Diego ha fatto ai media è agghiacciante, due fari, lo stridere delle gomme, un forte rumore e il buio, e poi il miracolo. Guardando la sua storia, capisci che qualcuno, per un soffio, gli ha salvato la vita. Grazie a quella vita, Diego può ancora vedere suo figlio crescere nonostante i dolori che ancora lo affliggono. Questo è il terribile racconto di Tavani, che ci ricorda quanto sia preziosa e fragile la vita. Continuiamo a sperare in una pronta guarigione per Diego, inviandogli pensieri positivi e sostegno, in questo momento difficile. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.